Ciao a tutti, rido perché ho preso questa gelata al tè verde ma non ho trovato un posto dove poterlo mangiare Quindi niente, mi metterò davanti a questa gratta vicino alle immondizie Ad assaggiare questa gelata al tè verde per voi prima che si sciolga tutto È un soft cream, soft cream, lo dicono così in giapponese Vado eh, io vado Volete chiudere gli occhi con me a provare? Tè verde proprio Ottimo, dissettante e soprattutto non troppo dolce A me piace molto il gelato soft cream, soprattutto quello alla patata dolce, è viola Però anche questo è davvero molto buono Scusate per il postaccio dove sono però Va bene anche questo nei miei video I miei video sono molto naturali Per questo motivo li faccio un po' così no? Poi sarà sportissimo adesso già no? Qua nei commenti chissà cosa scrivete Sono Anara adesso, ho appena fatto la passeggiata Che probabilmente avete già visto Comunque se non l'avete vista venite sul canale e la trovate Per questo video è tutto Gelato al tè verde Quindi vi invito a visitare il mio sito www.margotogni.it E al prossimo video dal Giappone Ciao ciao!